a questi ragazzi che fra l'altro sono un po' la colonna sonora della nostra trasmissione. Allora, questo è il vostro momento. Voi sapete, quando ci sono molti servizi e molti ospiti non c'è niente da fare e siete i primi a essere sacrificati. Adesso vi restituiamo le immagini per questa esibizione che riguarda i temi da film. Vi ringrazio perché avete scelto a questo punto, per farcelo ascoltare, la vostra interpretazione di Hello Dolly, che è un motivo celeberrimo fra i tanti che il cinema ha portato, ha contribuito a portare al successo. Per la cronaca vi ricordo che Hello Dolly è tratto dal film omonimo, a sua volta poi è tratto da una famosa commedia musicale che portava lo stesso titolo, ma per riferimento al film ricordiamo che il film era interpretato da Barbara Streisand e interveniva personalmente lo stesso Louis Armstrong, che di questa canzone è stato forse uno degli interpreti più validi e quello che ha contribuito a far riconoscere il tema musicale di Hello Dolly in tutto il mondo attraverso l'interpretazione della sua inconfondibile voce. Hello Dolly di Jerry Herman. A lei. A lei. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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